Tifosi bianconeri, buon 24 dicembre, vigilia di Natale, vi lascio quindi intuire quale sia la mia richiesta a Babbo Natale, un altro post partita difficilissimo, ormai ogni video è diventata una vera coltellata nel petto, è una sofferenza infinita, purtroppo non sappiamo come uscirne, c'eravamo illusi di esserci riusciti contro il Catanzaro con una prestazione ottima, purtroppo per oggi un'altra sconfitta pesante, secondo me larga per quello che si è visto in campo, due squadre non nel miglior momento, il Pisa però più bravo a sfruttare le occasioni, poco da dire, partita che come ha detto anche Masini secondo me era più giusta se fosse finita in pareggio, però poi possiamo stare qui a guardare, a parlare quanto ci pare, la situazione non è delle migliori, la classifica inizia a diventare pesante per quanto poi gli altri risultati aiutino, siamo tutti lì attaccati ad un solo punto di distanza dalla zona play out a due se non tre, dalla zona salvezza diretta, però diventa difficile pensare di riuscire a fare anche un pareggio, se non davanti veramente a, non voglio dire un miracolo sportivo, però la sensazione è questa, che ormai non sia difficile prevedere quello che possa succedere, a meno che non ci sia veramente un colpo di scena, Peccato perché contro il Catanzaro forse avvantaggiati dal fattore casa, tra virgolette si era visto un Ascoli più cattivo, completamente diverso, poi noi lo diciamo sempre, tanti infortuni, oggi mancavano anche Bellucci e Di Tacchio, per quanto poi la difesa, non credo, il problema sia stato l'adattamento di Agio Pong centrale, per quanto sappiamo questo sia uno dei temi di maggior discussione, Botteghini probabilmente poteva fare qualcosa di più lì sulla marcatura, cosa che ha detto poi anche Castori in conferenza stampa, però niente, un'altra sconfitta pesante, e adesso ci sarà il Santo Natale, sperando che l'area familiare possa aiutare i nostri a rialzarsi, e con il Cittadella fare un risultato importante, cioè arrivati a questo punto, davvero basterebbe anche un pareggio, la speranza era che appunto con il Catanzaro si potesse ripartire, per quanto eravamo consapevoli che la partita di... la trasferta di Pisa sarebbe stata complicata, e adesso è da vedere, adesso c'è poco da dire, purtroppo da aggiungere su una situazione che ahimè conosciamo tutti. Detto questo, con l'augurio di un serenissimo Natale per tutti voi e le vostre famiglie, la speranza è quella di poter commentare un altro bel risultato. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qua, come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, a lasciare un like, a commentare, e noi ci sentiamo in settimana con tanti nuovi video, anche sui social, mi raccomando, seguiteci, trovate tutto in descrizione. Buon Natale.